Tanti di gol, perché l'anno scorso non hai avuto modo di provarci, adesso mi sembra che ti sei sfogato un po' ieri. Esatto, esatto. Sì, no, sono contento, sono contento per come è andata la prima partita. L'importante era fare quello che il mister ci ha chiesto in questi pochi giorni di allenamento, è stato comunque un buon test dopo questi giorni di lavoro e siamo contenti. Senti, io devo dire, devo ammettere, ti farà piacere che mi sembri uno dei più in palle in questo allenamento, se ti vedo molto voglioso, molto attivo, è una questione di fisico che magari sei più pronto degli altri o c'è in te una molla in più dopo una stagione passata a guardare gli altri a giocare? No, io penso che bisogna sempre dare il 100%. Ecco, io mi attengo a questo, cerco di dare sempre il massimo, di dare sempre il 100% e fare tutto quello che il mister dice. Lo dicono tutti, poi dopo dirlo è facile e riuscirci lo è un po' meno, anche perché tu hai avuto una stagione che dal punto di vista psicologico sicuramente non l'è stata sul piano fisico, ma sul piano psicologico deve essere stata stressante. Sì, diciamo che non è stata una delle stagioni più facili per me, ecco. È stata una stagione molto difficile sia dal punto di vista fisico, per alcuni problemi che ho avuto all'inizio, e poi non giocare non è facile, ecco, stare fuori a guardare, però io ho dato sempre una mano per quel che ho potuto, sia in campo, ecco, in tutti gli allenamenti, ho sempre cercato di dare il massimo per aiutare la squadra, ecco. Poi abbiamo raggiunto l'obiettivo che tutti volevamo e siamo contenti. C'è un po' la dimostrazione che si raccoglie quello che si fa in settimana, perché è allenandosi con compagni come te, che anche poi quelli che giocano crescono, no? Perché ci vuole competitività. Certo, sì, io ho sempre dato il 100% per farne bene tutta la squadra, per rendarmi bene io, per me stesso, ecco. E per tutti i miei compagni, siamo un gruppo veramente unito, tutti danno il massimo, e questo è stato il nostro punto di forza. E comunque anche in una stagione così ti porti il ricordo dell'ultima partita, che hai giocato bene in una platea particolare. Sì, no, è stata per me un'emozione grandissima, ecco, perché io ancora, ho fatto lì l'esordio in Serie A, ecco, in una partita bellissima, in uno stadio pieno, quindi sono contento per questo. Allora, i gol di ieri li contiamo e non li contiamo, visto lo spessore dell'avversario, però tu in Serie B hai già dimostrato di poterne fare dei gol. Ieri hai fatto gol di testa, di piedi, insomma, in vari modi, e sempre più o meno con questi inserimenti nell'area, che sono un po' un tuo cavolo di battaglia. Sì, no, come ho detto prima, ieri era solo un test, una prima partita, ecco, per smaltire un po' il lavoro fatto in settimana, ecco, non è un importante gol, chi l'ha fatto e chi non l'ha fatto, ecco. Era un test comunque dove abbiamo riportato in campo quello che il mister ci ha chiesto in questi pochi giorni. E niente, andiamo avanti così, stiamo lavorando bene, bisogna continuare così. Ecco, io alludevo ai gol di Perugia, perché il Perugia non si è dimenticato di te, mi sembra di aver capito, voci di mercato che circolano, ti rivolrebbero là, l'allenatore ti stima molto, tu ti stai preparando bene, quindi sicuramente arriveresti in forma. Che prospettiva hai per te? No, al mercato adesso sinceramente ci pensano, ci pensa la società, ci pensa il mio procuratore, ecco, io non ci penso, penso ad armi bene, finché sono qua, do il massimo. Chissà, magari per far cambiare idea a qualcuno. Niente, no, io a questo non ci penso. Una domanda sui social, insomma, come abbiamo fatto anche a Seve e Grazie, lo facciamo anche a te, insomma, tu sei del partito di quelli che rivolge sicuramente inglese al Parma, immaginiamo che anche tu lo senti spesso, immagino che gliel'avrai detto di tornare. Sì, dai, noi siamo molto amici, siamo molto legati, l'anno scorso abbiamo legato tanto, chi non rivolrebbe un giocatore così qui, ecco, non c'è bisogno che lo dica io, è un grandissimo calciatore, ma soprattutto una persona magnifica, una persona straordinaria, gli auguro il meglio per il futuro, qualsiasi sia la sua decisione, però noi tutti arriverremo qui. Sul mercato, abbiamo detto di Perugia, c'è anche, insomma, si parla di Empoli insistentemente, che effetto fa, al di là, insomma, del fatto che devi allenare, perché sei un giocatore del Parma, però che effetto fa? Magari aprire il giornale e leggere fatta, Dezzi, passaggio, manca pochissimo, insomma, cioè essere quasi un giocatore di un'altra scuola almeno, per quello che si legge sui giornali. Sicuramente non è la prima volta che succedono queste cose, sì. Sono voci, sono voci, per il momento io sono qua, sono contento di essere qua, insieme a tutti gli altri compagni, mi alleno al massimo, poi si vedrà. Per quello che vale, come dicevamo prima, sei anche il capo cannoniere al momento del Parma. Esatto, esatto, ecco, primi cinque gol. E poi sopra un'ultima domanda, è arrivato nel tuo ruolo, è arrivato Kuzka, che cosa ha portato a scontrare un giocatore come lui? Innanzitutto ha portato tanta esperienza, perché comunque è un giocatore importante che ha giocato in grandissime squadre, nulla togliendo al Parma, ecco, però anche a livello internazionale, comunque è un giocatore che ha portato tanta esperienza, tanta voglia, lavora tanto, umile, un grande professionista e un grandissimo ragazzo.